Nicola, missione compiuta, ci serviva questa vittoria per chiudere il discorso qualificazione, lo abbiamo fatto, siamo ai quarti di finale di Champions League, al termine di una buona partita da parte nostra. Dicevo, anche con Giannelli, Trento si è presentato con delle difficoltà di organico, è giusto sottolineare, ma noi abbiamo fatto bene nella nostra metà campo, ottimo nel primo sette, ma anche nel secondo e terzo, dove Trento è salita, abbiamo tenuto molto bene. Questa partita è importante sotto tanti punti di vista, perché andiamo a incontrare probabilmente, per la finale di Coppa c'è grande possibilità di rigiocare ancora con Trento, era importante vincere stasera per diversi motivi, come dici te, per qualificarsi, ma non è solo per la qualificazione nel round dopo, è anche vincere da tre per essere tra i primi, se non i primi, del girone, non girone, di tutta la tabella di tutti i partecipanti, questo perché? Perché magari ci tocca giocare in semifinali contro un'altra squadra forte, che poi dopo avremo eventuale la seconda partita a casa nostra con il Golden Set in casa nostra, per cui era importante anche sotto questo punto di vista anche stasera vincere, avere una buona coefficiente di vittorie, di set persi, set vinti, e quindi diciamo che abbiamo fatto bene, loro ovviamente hanno dei problemi diversi fisici, c'è stata magari anche la scelta di tenere fuori Casischi, non lo so per quale motivo, però questo è quello che io sto cercando di dire ai ragazzi, che non dobbiamo guardarci cosa c'è d'altra parte, dobbiamo guardare noi, dobbiamo cercare di migliorare il nostro gioco, dobbiamo migliorare le nostre cose, lavorare sulle nostre cose, sulle cose di sistema, sulle cose della tecnica, perché delle volte anche le partite importanti e meno importanti sono delle occasioni per migliorare alcune situazioni anche tecniche, perché magari non abbiamo tanta possibilità di allenare, e allora la partita la dobbiamo usare anche per questa cosa qua, per cui sono contento della vittoria, sono contento della prestazione, un po' meno dei cinque muri presi nel secondo set, però praticamente quattro li abbiamo presi fino a 12-11 quando ho preso il primo time out, per cui dobbiamo pensare un po' a questa roba qua, però alla fine abbiamo vinto bene senza neanche soffrire troppo. Bene, grazie Nicola!